Sixtus Italia è nata nel 1974, abbiamo fatto una ricerca a livello europeo, abbiamo individuato la Sixtus Werk, che è una ditta tedesca vicino a Monaco di Baviera, che produce, produceva all'epoca e produce ancora tutti i prodotti naturali, sia per lo sport e la linea piedi, e quindi noi abbiamo cercato di razionalizzare quello che era la necessità di uno spogliatoio e creando una necessità nel settore sportivo, quindi oggi noi abbiamo assunto una credibilità a livello nazionale e internazionale che è importante, questo grazie a tutta una serie di controlli che noi continuamente facciamo su tutto quello che è la nostra distribuzione nazionale e internazionale. Una serie di prodotti nostri, sia degli integratori, varrette, oppure nastri da tapping, che non possono stare a una temperatura né troppo fredda né troppo calda, quindi ci vuole una temperatura costante affinché questi prodotti siano conservati al meglio. E da lì è scaturita la necessità di prendere un nuovo magazzino con un impianto come quello che avete fatto voi, ci sta dando quelle soddisfazioni anche nei confronti dei fornitori, che sono nostri fornitori esteri, in particolar modo li facciamo vedere che l'efficienza e la validità del prodotto non viene alterata dalla giacenza del magazzino, perché è importante secondo noi, perché sono tutti prodotti alimentari in pratica, che sono integratori, però si mangiano o si bevono e quindi devono essere conservati nella giusta maniera. Questo è quanto. La nostra scelta di questo tipo di impianto è stata fatta da ragione ben dovuta, perché abbiamo capito che con questo lo standard dei nostri prodotti aveva una valenza superiore a quello della concorrenza, perché non c'è azienda che oggi produce questo tipo di prodotti o commercializza che abbia un impianto come questo. Grazie a tutti.